Quella tra Serena Enardu e Paco sembra essere una storia infinita. Dopo la prima crisi a Tentation Island VIP e la reunion al GF VIP, lo scorso maggio la coppia si era lasciata definitivamente, non senza strascichi. Capitolo archiviato sembrava davvero finita, ma a distanza di mesi ecco che la 44enne sarda rivela che quel sentimento è ancora vivo. Ci stiamo riavvicinando, rivela su Instagram la relazione con il cantante, quindi potrebbe ricominciare. Intanto Enardu è stata nuovamente vittima dei vandali che per la seconda volta ne hanno incendiato l'auto.